Abbiamo qui con noi Giovanni Testa. Ciao Giovanni, grazie per prendere parte a questa intervista. Puoi anticiparci, raccontarci un po' TerraSmart, di che cosa si occupa? Ciao Stefano, buongiorno a voi e grazie per l'invito. TerraSmart è una azienda, una start-up che opera nel sud Italia principalmente e che progetta e realizza soluzioni per l'agricoltura 4.0, applicando le più avanzate e innovative tecnologie per il monitoraggio e la gestione delle coltivazioni. Una bella realtà italiana come la vostra, che collabora con noi fin dalla sua fondazione, insomma, perché ha scelto Arduino Pro? Proprio come dicevi tu, la motivazione è proprio quella che hai introdotto tu, ovvero che sin dall'inizio TerraSmart, che è una start-up al 100% italiana, ha cercato anche nei suoi prodotti, quindi negli elementi core dei suoi prodotti, dei prodotti italiani. Quindi Arduino chiaramente ha rispettato immediatamente questa nostra esigenza, quindi abbiamo scoperto con immenso piacere tutte le caratteristiche, proprio il brand Arduino e i suoi prodotti, che ci hanno dato in particolare un time to market molto rapido, quindi ci hanno consentito di lavorare immediatamente bene. C'è un ottimo rapporto delle specifiche e del prezzo, quindi un ottimo rapporto specifico e prezzo. Quindi nel tema dell'agricoltura sostenibile, pensando ai bisogni degli agricoltori di oggi, voi proponete una soluzione che aumenta l'efficienza dei raccolti e riduce gli sprechi. Puoi dirci qualcosa riguardo? Sì Stefano, proprio così esattamente. Oggi, grazie ai sistemi che si occupano di agricoltura 4.0, è possibile per esempio ridurre il consumo dell'acqua per l'irrigazione, quindi permettere alle aziende di ottimizzare l'uso, proprio l'utilizzo di questo prodotto preziosissimo che è l'acqua, così come è possibile ottimizzare l'uso dei fertilizzanti, quindi dei prodotti chimici che vengono adottati appunto in tutte le coltivazioni per la protezione delle delle piante. E quindi è possibile rendere in questo modo la produzione, la coltivazione più produttiva, quindi fare in modo che si producano prodotti migliori e soprattutto che siano di migliore qualità, quindi un prodotto da mettere a tavolo è sicuramente migliore rispetto a quelli che subiscono dei trattamenti più invasivi con dei prodotti chimici. Molto interessante, certo. Quindi parliamo della vostra soluzione, AgriNext, il vostro prodotto che offre vantaggi e un funzionamento innovativo. Ci puoi raccontare qualcosa riguardo? Certo. AgriNext è il nostro sistema di monitoraggio professionale per aziende agricole, che si rapporta un po' a tutti i tipi di aziende agricole, quindi a molteplici coltivazioni. Ha due versioni sostanzialmente, una con la tecnologia 3G e un'altra con il sistema LoraOne, che permette ovviamente di coprire anche delle distanze più grandi. Quindi indipendentemente, diciamo, dalla dimensione della coltivazione, noi riusciamo ad agire con i nostri sensori e quindi con la nostra stazione di monitoraggio. Quindi ci sono molti sensori che possono essere utilizzati in questo sistema, ovviamente dando una estrema precisione nella rilevazione dei dati. Ecco, in questo ambito, qualche vantaggio in particolare che i vostri clienti hanno ottenuto che vuoi citarci? Sì, certo Stefano. Posso fare alcuni esempi. Pensa ad un'azienda agricola, insomma di un'azienda che si occupa di viti, di viticoltura, che può risparmiare con il nostro sistema di monitoraggio dei trattamenti per quello che riguarda proprio le malattie che possono attaccare le coltivazioni, attaccare le piante. Molto spesso i contadini, diciamo, si basano su delle loro esperienze e quindi in determinati periodi dell'anno fanno dei trattamenti. Avere la certezza con il nostro sistema che il trattamento può essere fatto oppure no, perché c'è il rischio oppure no di contrarre quel tipo di malattia, permette all'azienda di avere un risparmio, chiaramente, anche economico dal punto di vista proprio di quello che è il costo di questi tipi di trattamenti. Tutto chiaro Giovanni, grazie mille per la tua disponibilità, buon lavoro e a presto. Sono io che ringrazio tanto voi e spero di vedervi presto. Grazie mille.